Non è un saggio destinato agli addetti ai lavori. Psicologia analitica e mito dell'immagine di Angelo Malinconico varca il confine della nicchia scientifica e diventa quasi un romanzo, il romanzo a tratti anche autobiografico, delle psicologie e del profondo alla ricerca di un senso. Il punto di riferimento attorno al quale ruotano storie e percorsi analitici è Paolo Aite, figura storica e carismatica dello junghismo italiano, maestro dello stesso Malinconico e interprete di spicco della terapia psicoanalitica associata alle immagini, nota come gioco della sabbia. Il paziente si racconta anche attraverso le arti figurative e completa il senso delle sue parole con il disegno. In un lungo dialogo immaginario con Paolo Aite, fatto di lettere, ricordi, riflessioni, spunti raccolti perfino nel bel mezzo di una passeggiata, utili pensieri insaturi come li chiama lo stesso autore? Angelo Malinconico ci spiega come e perché le parole da sole siano insufficienti e talvolta perfino distruttive quando non corrispondano all'esperienza simbolica in atto. Le immagini del passato, del presente o del futuro alla fine corrono in aiuto di entrambi allievo e maestro, sia per esprimere appieno la psiche, sia per indagarla. In quel rapporto analitico unico inviolabile che lega il paziente al suo analista. Un rapporto oggi diverso dal passato più autentico, più paritario, più umile, fatto quasi di insegnamenti reciproci, attento a non scivolare nella iubris la stima esagerata di se stessi e della propria potenza che impedisce all'uomo di riconoscere i propri limiti, ipotecando qualsiasi interpretazione analitica. Psicologia analitica e mito dell'immagine vuole essere dunque un omaggio al grande maestro junghiano Paolo Aite, ma alla fine è un libro che conduce il lettore in punta di piedi in quel labirinto di immagini e di emozioni che dimorano in ognuno di noi e che arrancano alla ricerca di un senso. Ho voluto fare un omaggio al maestro Paolo Aite che è uno dei fondatori dello junghismo in Italia, allievo analizzato di Bernard che ha portato in Italia Jung e attorno a cui è nato un cenacoro negli anni 50-60 e di cui faceva parte uno su tutti Federico Fellini e questo omaggio è anche l'occasione per parlare di immagine, immagine in senso psichico, in senso filosofico, metaforico. L'adulto può tirare fuori con il gioco della sabbia le immagini del passato o le immagini di cui cerca un senso? Beh, intanto viene messo l'accento su un aspetto storico, biografico perché Paolo Aite è stato il primo a utilizzare con sistematicità il gioco della sabbia all'adulto. Il gioco della sabbia era nato con la Kalf in Svizzera ed era utilizzato esclusivamente con i bambini. Paolo Aite l'ha utilizzato negli adulti perché è rimasto colpito dalla capacità che ha l'adulto di regredire funzionalmente la crescita proprio in terapia e proprio attraverso il gioco. Quindi non esiste un'età specifica ma tutte le età sono buone. Tra l'altro, dovendo proprio citare Jung, quando parla di archetipi, cioè di immagini a priori che sono dentro di noi, una di queste immagini è il puer, quindi il bambino e avendo ognuno di noi un bambino che ha bisogno di giocare, vuole esprimersi giocando, offrirgli la possibilità di giocare in terapia è una grande chance.